Buongiorno a tutti e grazie a tutti coloro che si sono collegati, io sono Andrea Capito Ludovici, responsabile acqua del WWF Italia e ho il compito di coordinare un po' questa giornata che è dedicata all'ingegneria naturalistica per la riqualificazione dei corsi d'acqua. È un incontro che è stato promosso, che è promosso da CIRF e AIPIN nell'ambito del Life Green Change ed è un incontro di confronto e collaborazione di quelle che sono le tecniche e le esperienze che si sono avute, che si stanno avendo di riqualificazione fluviale, di rinaturalizzazione dei nostri corsi d'acqua. È sicuramente un tema assolutamente attuale, soprattutto per quello che sta succedendo e per la prospettiva che noi abbiamo avanti, perché se pensiamo al New Deal, se pensiamo alla strategia europea della biodiversità entro il 2030, noi vediamo come ci sono degli obiettivi anche importanti e che speriamo di riuscire a portare avanti anche sui corsi d'acqua. Nella strategia europea per la biodiversità si parla di riconnettere 25 mila chilometri di fiume in Europa, riconnettere e riqualificarli e quindi questo vuol dire che tutti gli stati si dovrebbero impegnare a promuovere da subito, perché i tempi sono stretti, dei piani o comunque delle azioni che ci consentano poi di cambiare anche rotta in molti casi. Noi conosciamo tutti la situazione italiana, ci sono molte criticità lunghi corsi d'acqua, criticità legate alla manutenzione, al continuo consumo di suolo e a tutta una serie di altre pressioni e minacce che necessitano sicuramente anche per gestire la vulnerabilità del nostro territorio, anche in funzione dei cambiamenti climatici, un cambio di rotta e una modalità di gestione dei nostri corsi d'acqua che è completamente diversa e che tra CIRF, AIPIN e qui mi dico anche WWF, sono tantissimi anni che stiamo cercando di promuovere. Io mi sento di ringraziare per essere stato invitato a coordinare questa cosa, io sono anche parte in causa sia di AIPIN che di CIRF, perché ho fatto parte dell'AIPIN Lombardia nei primi anni, poi sono uno dei fondatori del CIRF, con altri amici di altre associazioni, anche di Lega Ambiente, di WWF, eravamo una decina di persone che si erano ritrovate proprio per cercare di avere uno strumento in più per promuovere questo tipo di cose di cui poi parliamo anche oggi. Quindi io credo che sia estremamente importante proprio in questo momento parlare di questo e credo che oltre agli interessantissimi e importanti interventi anche sull'esperienza sia importante il dibattito più che altro per capire come insieme possiamo andare avanti. In questi ultimi anni abbiamo avuto anche diversi momenti in cui molte associazioni hanno lavorato insieme proprio su questi argomenti, ricordiamo l'iniziativa Protect Water dell'anno scorso dove 21 associazioni in Italia, ma poi molte altre in tutta Europa, si sono battute per riconfermare la direttiva quadroacchio che rischiava in qualche modo di saltare. Quindi è stato comunque un bel momento di collaborazione e di azione comune. Quindi penso che questo tipo di incontri debbano essere sempre più promossi e incentivati proprio ma anche per cercare di portare insieme avanti delle proposte e dei piani che in qualche modo diventino operativi. Adesso abbiamo anche poco tempo perché si sta pensando a come gestire, a come definire dei piani anche rispetto a tutte le politiche e i soldi che arriveranno anche dall'Europa e quindi in qualche modo è il momento giusto per parlare di questo. La giornata, adesso dico solamente due o tre cose dal punto di vista tecnico. Intanto l'evento è registrato, quindi potrà essere anche rivisto anche da chi in qualche modo oggi non ha avuto la possibilità di vederlo. Io cercherò di mantenere i tempi che ci siamo dati per garantire anche poi l'adeguato dibattito alla fine. Per quanto riguarda il dibattito, chiedo l'aiuto anche a Marco Monaci che è un po' alla regia di questo evento, di aiutarmi nella lettura della chat perché poi sulla chat chiedo anche a chi volesse poi intervenire nel dibattito finale di fare richieste in modo che abbiamo un'idea anche di come gestire i tempi del dibattito. Per quanto riguarda il dibattito, io sarei per interventi il più breve possibile perché sennò anche però per cercare di avere più partecipazione a questo nostro momento. Detto questo, io lascerei subito la parola alla parte dei due interventi introduttivi del Presidente del CIRF Laura Leone e a seguire il Presidente di IPN Federico Preti. Prego Laura. Grazie a tutti, buongiorno a tutti, grazie Andrea e grazie per la folta partecipazione. Siamo oltre 100 stamattina, segno che è stato percepito il valore di eventi come quello di oggi pensato con il Professor Preti, Presidente di IPN che seguirà questa mia introduzione. Pensato qualche mese fa e finalmente concretizzato oggi nella cornice del progetto Life Green Change che prenderà spunto dalle nostre discussioni anche per edifici da un documento tecnico per la gestione dei corsi d'acqua e dei canali di bonifica dell'agropontino e non solo. Una giornata importante quindi tra di oggi che vede protagoniste due associazioni tecniche, CIRF ed IPN, che pur adottando tecniche ed approcci differenti, perseguono comunque la stessa finalità, che è quella di migliorare la qualità dei corsi d'acqua del nostro territorio. E dobbiamo proprio partire da ciò che ci accomuna, chiaramente arricchito e robustito dalle singole pecolarietà reciproche, nella finalità di creare sinergie ed avere solo così un ruolo importante su quei tavoli in cui si decide per il nostro territorio. Già Andrea Gapito ha fatto cenno a questo, è sempre più importante indirizzare verso quella strada che porta alla rivoluzione che sia veramente green, che è quella che ci viene richiesta dalla comunità europea e che è l'unica strategia concreta di adattamento ai cambiamenti climatici in atto. È quella dell'azione diffusa di rinaturalizzazione del territorio. Ancora una volta gli eventi recenti che sono avvenuti in territorio francese e nel nord ovest del nostro paese ci ammoniscono e ci dicono che non basta una politica basata sulle opere e ci dicono che siamo anche fortemente in ritardo per adottare una politica che sia basata anche sui vincoli e soprattutto su strategie che mettano al centro la conservazione e il ripristino del capitale naturale, che sono scrigno di servizi ecosistemici quali il miglioramento della qualità ecologica, la riduzione del rischio idraulico, la prevenzione dell'erosione costiera, tutti elementi che pongono le basi per un sviluppo socio-economico possibile. Nel 2019 già insieme ad altre associazioni, tra cui anche il WWF, Cirfe e Aipin hanno inviato una lettera aperta al Ministro Costa in cui si chiedeva di promuovere quegli interventi integrati a cui sono destinati il 20% di tutti gli accordi di programma sulla difesa del suolo e in realtà questi non sono mai partiti e si chiedeva l'utilizzo dell'ingegneria naturalistica per la realizzazione di opportune opere di difesa del suolo. A giugno poi Piano Colau, dedicato al rilancio dell'Italia post pandemia, aveva sì parlato di riconoscimento di servizi ecosistemici, di contrastare il consumo di suolo, di sostenere il ripristino del capitale naturale e della naturalità dei vaccini idrici italiani, ma contestualmente aveva fornito un'ulteriore spinta all'infrastrutturazione del territorio e questa linea la si sta tenendo anche nel piano nazionale di rilancio e resilienza, mentre invece, come già accennato da Andrea, avremmo avuto bisogno di un piano più coraggioso basato sul vero Green Deal, perché la Biodiversity Strategy per il 2030 dell'Unione Europea ha proprio definito un piano ambizioso di tutela e recupero degli ecosistemi, che è basato sull'attuazione delle direttive europee sulle acque e sulla biodiversità. Di questa cosa in Italia si parla, ma non viene mai realizzata e effettivamente presa in considerazione. 25 mila chilometri di fiumi, vacce e navigiare, ripristinandone la continuità, rimuovendo le barriere, restituendo spazio ai corsi d'acqua e rinaturando aree umide e pianure alluvionali. Questo è il piano che ci saremmo aspettati, un piano nazionale di rinaturalizzazione del territorio, quindi la messa in campo di interventi di riqualificazione dei corridoi fluviali, il ripristino dei servizi ecosistemici che solo i corsi d'acqua più naturali forniscono alla popolazione e questo da attuare sia laddove spazio c'è che laddove ve ne è meno e allora l'ingegneria naturalistica diventa un fondamentale strumento di azione. Le misure di stimolo e il recovery fund costituiscono un'occasione epocale, un cambio di passo nella tutela degli ecosistemi. Non lasciamo che l'Italia butti via un'altra occasione e forse è ormai tardi, ma il piano nazionale di rilancio di resilienza doveva parlare la nostra comune lingua, anche se forse la politica italiana non è pronta. Quindi non la tecnica, attenzione, non l'ingegneria, non le risorse, non la conoscenza o la ricerca, ma la politica non è pronta. È per quello che è importante andare avanti insieme, perché solo insieme possiamo vivere un vero futuro e una vera rivoluzione verde. Grazie. Grazie Laura, prego Federico. Buongiorno a tutti, ringrazio gli organizzatori, Laura per le parole di saluto. Mi fa piacere anche proprio condividere insieme da Presidenti questa tappa di un percorso che è iniziato tanto tempo fa, circa 30 anni fa è nata l'Aipin e 20 anni fa il CIRF e io ho seguito i passi di entrambe le associazioni. Poi ricordo anche che da neolaureato è la prima cosa che scrissi, che non era un articolo scientifico, ma insomma era un contributo tecnico, era un volume del WF proprio sulla questione dell'idraulica e dei corsi d'acqua. Con Laura ci siamo incrociati a un coffee break dell'ennesimo convegno a autorità di distretto e consorzi a Vallombrose e abbiamo lanciato quest'idea di fare questo incontro che non è appunto un punto di compimento di un percorso, ma è una tappa per andare avanti meglio e insieme come due associazioni che hanno spesso lavorato in parallelo con tanti punti in comune, ma che forse oggi abbiamo i tempi maturi per poter fare delle cose in una collaborazione più stretta. Diciamo che nel percorso di questi anni alcune tappe, ulteriori tappe che abbiamo avuto, sono state anche quello che ci ha visto collaborare con i consorzi Bonifica qui in Toscana e solo per dare degli spunti, devo dire che rispetto al corso che si fece dieci anni fa di formazione in cui si parlava di gestione e manutenzione della vegetazione ripariale e che abbiamo ripetuto quest'anno con difficoltà dovute al Covid, ma con un interesse abbiamo visto crescente e con Laura, insomma con il Cirfe abbiamo proprio interagito parecchio perché seguivamo tutte le lezioni, tutti i dibattiti e secondo me siamo arrivati ad avere superato alcuni vincoli, alcune rigidità, cioè ora si parla più spesso di manutenzione gentile, della vegetazione e c'è una maggiore attenzione sul territorio rispetto alle nostre tematiche. Chiaramente rimangono dei vincoli, ci sono dei vincoli fisici, le linee guida della regione toscana sulla vegetazione ripariale, la cosiddetta 1315, dappe scontati in schemi che sono riportati che i corsi d'acqua non possano, piuttosto che non debbano avere i loro spazi di mobilità e quindi non è facile intervenire. Poi secondo me permangono dei vincoli culturali perché ci sono porzioni della popolazione che credono ancora che si debbano pulire i fiumi rispetto alla vegetazione e quindi i consorzi a volte hanno questo alibi, dobbiamo intervenire perché chi paga il contributo, chi versa il tributo vuole che facciamo questo. Però alcune difficoltà che ci potrebbero essere a livello tecnico scientifico diciamo a questo punto non ci sono più, non abbiamo noi gli alibi perché ad esempio lo studio della resistenza al moto dovuto alla vegetazione nei corsi d'acqua, ora abbiamo degli strumenti per poter a livello anche di progetti, di interventi dimostrare come funzionano realmente le cose. Però vorrei aggiungere che dobbiamo anche considerare la scala, la scala spazio-temporale con cui noi ci dobbiamo misurare che non è ovviamente per noi magari non più quella della sezione idrica del corso d'acqua, nemmeno quella del tratto, del tronco fluviale, ma si deve dare a quella di repicolo idrografico e di bacino, di bacino come unità di riferimento, bacino idrografico. Ecco, secondo me dal bacino da monte verso valle siamo in grado ora di vedere meglio anche quali possono essere gli effetti di interventi, come sapete l'ingegneria naturalistica non si realizza solo nei corsi d'acqua, bensì anche sui versanti e quindi possiamo vedere anche come possiamo beneficiare a valle di interventi che sono fatti magari sui versanti. Concetto di rischio idraulico, noi stessi per far passare i nostri messaggi eravamo abituati a sostenere che lasciando la vegetazione in alveo o aggiungendo la vegetazione in alveo con le opere di ingegneria naturalistica non si aumentava il rischio idraulico o si manteneva il rischio accettabile o diciamo sopportabile. Ecco, secondo me, secondo noi, ne abbiamo discusso tanto anche durante l'ultimo corso sulla gestione della vegetazione di pariale, ormai siamo pronti per poter dimostrare che con la vegetazione si riduce il rischio idraulico, banalmente a valle, questo è evidente, però anche perché ci sono altri componenti, ad esempio la stabilità delle sponde o il fatto di trattenere altri detriti legnosi tramite le piante vive, sono concetti che ormai siamo in grado di poter sostenere molto meglio che in passato, quindi io sono fiducioso che i nostri passi avanti saranno utili anche per i nostri fiumi. Ringrazio tutti, anche i relatori che daranno i loro contributi da ora in poi. Grazie. Allora, grazie Federico. Una nota così, questa era la pubblicazione di cui parlava Federico nel 92, dove avevamo partecipato in tanti, quindi era giusto un ricordo, anche triste, perché sono tanti anni che diciamo più o meno le stesse cose. Detto questo, però non demordiamo, detto questo io inizierei gli interventi con Andrea Goltara e Marco Monaci e seguirà poi Paola Sangalli che anticipa per problemi personali, quindi certamente. Quindi Andrea e Marco, prego, 15 minuti avete.